Buongiorno oggi vi porto a vedere questo bell'ufficio in pieno centro di Varese nel broletto, nel tortile broletto, tortile storico. Ha un doppio accesso e quindi si può cedere di qui questo locale con degli afresti che non si possono assolutamente toccare. Da questa parte abbiamo due uffici luminosissimi veramente luminosi se c'è sempre il sole quando faccio i video, meglio, a forza, e si affaccia direttamente sul tortile. Passiamo da questa parte, sempre lo stesso ufficio ma con doppio accesso quindi quest'altro potrebbe essere un altro indagso. Come vedete oggi ho trovato una giornata veramente bellissima. Questo fa da indagso e disimpegno con un altro locale molto ampio. E' trovato. Sempre lo faccio direttamente sul broletto. Adesso andiamo a vedere il bagno di l'acqua. Questa è la zona meno bella di tutto l'ufficio. meno bella perché comunque non è finestrata e per di più essendoci la torrente elettrica rimane buia. Questo è un locale archivio e lì vedete in quella porta un piccolo bc. non si vede nulla però vi assicuro che non è molto grande, anzi l'opposto. Però diciamo che per un ufficio può andare bene. La richiesta è direi ottima, veramente ottima perché comunque si parla di una cifra assolutamente irrisoria per cento metri quadrati in ufficio. E niente, se volete vederlo chiamatemi e fissiamo il puntamento. Buona giornata a tutti.